ciao ragazzi bentornati nel mio canale oggi si va di video di bicicletta ho voluto provare a fare da cittadella dove abito io fino a san zelone degli ezzelini dove c'è un'osi molto carina e poi da san zelone degli ezzelini fino a dove lavora il mio ragazzo per andarlo a trovare in pausa pranzo e poi tornare indietro a cittadella la cosa che mi dà molto fastidio è che non ho controllato la mia gopro prima di cominciare prima di partire e l'ho fatto per due giorni consecutivi questo percorso il primo giorno con una mia amica che mi ha accompagnata fino a poco prima di san zelone poi siamo dovute tornare indietro e quindi l'ho rifatto il giorno dopo però il primo giorno non mi ero accorta che c'era il bilanciamento del bianco fuori fase il secondo giorno non mi ero accorta che c'era la stabilizzazione spenta quindi è venuto fuori uno schifo in realtà io ho una gopro iro 7 quindi la stabilizzazione dovrebbe essere perfetta solo che questo video sarà un po shaky perché non mi piace modificare la stabilizzazione su final cut pro perché è poco realistica e non mi piace l'effetto quindi lo terrò shaky e spero che possa rendere comunque la bellezza dei posti che sono andata a vedere che ho attraversato la prima parte del video avrà un colore leggermente diverso perché ovviamente il bilanciamento del bianco era fuori completamente quindi le clip originali erano blu ho cercato di modificare il colore più possibile ma non sono una pro quindi non riesco ancora a fare miracoli questo è quello che sono riuscita a fare buona visione a fare buona visione a fare buona visione a fare buona visione Siamo maledettamente controvento. 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 Siamo maledettamente controvento.